cari amici di mille un'avventura lasciate innanzitutto che vi ringrazio per i 4330 iscritti che abbiamo raggiunto recentemente abbiamo parlato sul canale di pascal di linguaggio pascal per il commodore 64 con questo particolare pass 6502 che può creare utilizzando un dialetto del pascal dei programmi per il commodore 64 e per tanti altri computer a 8 bit degli anni 80 addirittura più di 500 visualizzazioni e quindi vi ringrazio per questo interesse e subito andiamo a vedere l'argomento di questo video perché a parte commodore club che ci ringrazia e anche isaac che dice il pascal non mi piace però devo ammettere che funziona in questi in queste implementazioni e poi c'è marco bergomi che ci dice molto interessante sarebbe bello vedere il pascal direttamente sul commodore 64 e poi ci suggerisce l'oxford pascal o il g pascal come avevamo fatto per il power c e allora visto che siamo qui perché non provare anche tutti questi pascal che erano disponibili sul commodore 64 sui dischetti sulle cassette il primo che vediamo è proprio quello che ci ha suggerito l'oxford pascal dove li troviamo tutti questi pascal ovviamente ci sono tante fonti a me è capitato c64 wiki che ha una pagina dedicata al pascal in connessione al commodore sia c64 che pet e fa un elenco di varie varie implementazioni di questo linguaggio che come diceva qualche iscritto è sicuramente molto pulito come linguaggio la programmazione strutturata è proprio diciamo realizzata al massimo in questi linguaggi un se si prende in mano un linguaggio un programma scritto in linguaggio pascal si capisce subito tutto mentre con altri linguaggi può essere molto più difficile e quindi le varie implementazioni visto che è del 72 questo linguaggio si niclaus wirth l'ha realizzato nel 72 come evoluzione dell'algol 60 ma molto più chiaro e poi sappiamo benissimo che il pascal ha avuto un'evoluzione notevole arrivando fino al delfi della borland che è ancora usato adesso e quindi insomma è un linguaggio che nonostante adesso ci siano tanti altri linguaggi di programmazione comunque qualcosa che è ancora utilizzato in livello a livello professionale e di certo è uno dei linguaggi didattici per eccellenza l'oxford pascal dicevamo poi c'è questo pascal 64 che si potrebbe recuperare addirittura risale all'83 84 invece l'oxford pascal c'è un super pascal dell'85 ma mi pare che siano un po' siano un po' in lingua tedesca questi due che abbiamo visto g pascal dell'83 anche questo anche quindi davvero qualcosa di molto appena uscito il c64 beh quell'anno lì già c'erano le implementazioni del pascal ucsd e kian pascal allora andremo a vedere velocemente l'oxford pascal che caratteristiche ha cioè proprio un programmino andiamo a scrivere perché ci vuole molto tempo per imparare il pascal se uno non lo conosce perché bisogna stare molto attenti a come si scrivono le cose e questo è fondamentale per evitare errori e subito il compilatore dice guarda che stai scrivendo una cosa che non va bene correggi comunque vedremo l'oxford pascal proprio un programmino il g pascal anche qui un programmino e vediamo anche il kian pascal ho provato questi tre e dicevo c'è il manuale dell'oxford pascal come vedete c'è anche qui appiccicato la custodia del disco in questa scannerizzazione del manuale che risale dicevamo l'ottanta febbraio 84 c'è tutto il copyright vi spiegano come mantenere non ci vedete scusate come mantenere il dischetto in modo che non si non si deteriori col tempo c'è scritto di conservarlo tra 10 gradi centigradi e mai sopra i 52 gradi centigradi altre cose che ci dicono magari non c'è scritto ma la prima cosa è farne una copia ecco questo si faceva all'epoca appena arrivava il dischetto subito copiato perché appunto non si deteriorasse e quindi poi si perdesse il programma qui c'è tutta la spiegazione dei del linguaggio pascal quindi anche un manuale proprio di per imparare a utilizzarlo e ci sono anche delle estensioni che evidentemente hanno a che fare con alcune caratteristiche del c64 che non sono proprie del del pascal vero e proprio quindi sono estensioni andiamo a vedere subito come si presenta ovviamente uso l'emulatore come al solito ed ecco che si è aperto 1984 anzi si sta caricando ancora brutta questa schermata grigetta con grigio scuro con il carattere in grigio chiaro ma era così si vede che si riusciva a leggere bene sui televisori dell'epoca aumentiamo un po la velocità così il caricamento del programma a un certo punto riuscirà a terminare ed ecco qui ready torniamo alla velocità normale cos'è questo ready potremmo scrivere list non ci sono programmi funziona un po questo oxford pascal come il basic v2 versione 2 del c64 infatti infatti possiamo scrivere 10 poi bisognerebbe scrivere programma col nome del programma ma adesso facciamo una cosa più rapida 10 begin 20 write facciamo un errore write ciao pascal facciamo un errore 30 and altro errore fatto apposta abbiamo scritto il nostro programmino begin facciamo scrivere sullo schermo ciao pascal and finisce tutto bene eseguiamo il programma vediamo se la compilazione va a buon fine errore di tipo 1 linea 20 vicino a write ho usato un carattere non utilizzato dal pascal e poi mi dice che ha raggiunto la fine del file sorgente ma non va bene perché l'ho chiuso in modo sbagliato ecco quali sono i due errori che ho commesso beh la riga 20 innanzitutto dovrei scrivere write e poi usare i caratteri previsti dal pascal quanto pare era previsto mettere le stringhe tra singoli apici quindi ciao pascal chiuso l'apice e questa è la linea 20 adesso dobbiamo scrivere la linea 30 correttamente and se è la fine del programma richiede il punto quindi anche questi segni particolari devono essere fatti in modo corretto questo è il nostro programmino scriviamo run e vediamo che succede si sta compilando zero errori compilazione completa ciao pascal vedete che è poi ready pronto per avere un altro un altro comando e andare avanti funziona e bisognerebbe studiarsi bene il linguaggio pascal bisognerebbe vedere quali estensioni sono disponibili qui nell'oxford pascal magari per gestire un po' di grafica per gestire gli sprite non ho idea se ci siano leggendo il manuale velocemente non li ho visti quindi probabilmente proprio un pascal per scrivere programmi e basta cioè non studiato appositamente se non per alcune sue caratteristiche per il commodore 64 vedo la manipolazione di bit il generatore di numeri casuali gli interrupt della tastiera quindi non vedo cose grafiche particolari ma magari non ho letto tutto il programma e tutto il manuale per scrivere un programma e quindi non vi so dire lo scoprirete voi se vi state appassionando al linguaggio pascal pensato per il c64 ma andiamo avanti ancora più interessante sembra questo g pascal che era l'altro suggerito da marco qui troviamo il flyer cioè la pubblicità di questo pascal g pascal il sistema completo per creare giochi e infatti vediamo che a differenza dell'oxford pascal almeno per quanto ne ho capito adesso il g pascal è un linguaggio di programmazione è più che un linguaggio di programmazione per il tuo c64 è un completo sistema per creare giochi perché gestisce la grafica gli sprite la musica e gli effetti sonori i colori ci sono i timer e anche gestisce il clock insomma i timer vari quindi ci sono 76 estensioni al linguaggio pascal unici per creare programmi per il c64 e poi spiega tante altre cose ci sono dei addirittura 14 programmi gratuiti ma se se all'epoca ecco si doveva comprare per 80 dollari il compilatore pascal per avere poi anche i 14 programmi tra cui c'è un sub hunt che è un gioco arcade con joystick paddles o la tastiera insomma un po' di programmi per capire come funziona tutto noi non li abbiamo questi programmi almeno non li ho trovati io e andiamo a eseguire il g pascal vediamo se c'è qualche programma di esempio che ci faccia capire se effettivamente la grafica riesce a gestirla ecco qui come si presenta non è come l'oxford pascal è più diciamo guidato con queste maschere dove vi dicono esattamente quali comandi sono a disposizione e per esempio noi potremmo editare un file anzi andiamo a cercare un file già pronto così evitiamo di fare il programma di prima che in effetti allora vedete edit compile eccetera c'è anche files quando premete f e vi salta fuori un altro menu un menu in cui potete caricare un programma prima però di caricarlo devo sapere come si chiama allora con c ci fa il l'elenco del direttorio e vedete che c'è il g pascal 3.1 che è il programma che stiamo eseguendo adesso poi ci sono questi programmi proviamo sin wave che immagino vada a disegnare la solita sinusoide e si spera nella pagina grafica così vediamo se davvero realizza proprio queste cose anche graficamente bene andiamo a caricare con load dal disco il nome del file sin wave lo cerca sul disco lo carica e adesso ci propone tutte queste cose e cosa ci propone l'ho caricato quindi vorrei eseguirlo perché non c'è se scrivo cosa succede devo compilare prima e perché non mi dici che posso compilare allora premiamo c per compilare allora ci dice niente che ecco questo crea p code cioè il pascal aveva la caratteristica di essere molto portabile perché in alcune implementazioni adesso non so se in tutte la compilazione portava non a creare un eseguibile vero e proprio in linguaggio macchina del computer ma creava un codice un codice oggetto intermedio che si chiamava p code pascal code è un po' come il java linguaggio java che crea un suo byte code così tanti linguaggi che per essere più veloci ma allo stesso tempo portabili creano una serie di istruzioni in una sorta di linguaggio macchina ma che un linguaggio macchina inventato che poi può essere tradotto molto semplicemente in linguaggio macchina vero e proprio del computer su cui il programma deve essere eseguito un po' come il web assembly che è una sorta di assembly di basso livello con istruzioni molto elementari che viene eseguito in un browser traducendolo in linguaggio macchina nativo bene noi abbiamo creato questo code p code senza errori visto che abbiamo usato un programma già qui pronto e andiamolo a eseguire anzi sarebbe interessante vederlo però non so ecco beh insomma adesso non so neanche come bloccare magari bastava li proviamo sì bastava fare così bene vedete c'è un commento in pascali commenti sono tra parentesi tonde seguite dall'asterisco per non confondersi con le normali parentesi tonde poi ci sono le costanti le variabili la funzione sin che viene definita in quel modo particolare quindi non usa la funzione seno nativa del c64 ma usa questa implementazione che evidentemente va a sviluppare con la serie di taylor immagino o qualcosa del genere il polinomio che poi viene calcolato più velocemente quindi non mi aspettavo questa cosa poi comincia il programma iniziale con begin poi va a pulire lo schermo scrive il titolo e così via quindi un programma anche questo da cui tra respirazione per capire come funziona tutto vedete che in fondo attende c'è scritto repeat until get key e aspetta che venga premuto un tasto con la struttura repeat until poi c'è begin end col punto finale andiamolo a vedere se capisco come uscire quindi siamo usciti premiamo run ecco la prima cosa è premi enter quando sei pronto e ora premiamo enter e dovrebbe entrare in modalità grafica non ci abbiamo fatto caso ma vedete che il programma ha pulito lo schermo è passato in modalità grafica e adesso ha tracciato questa questa sinusoide con i puntini con i pixel che vedete in modalità 320 per 200 quindi funziona ricordate che per andare avanti bisogna premere un tasto purtroppo non c'è non hanno messo l'istruzione per tornare in modalità testo e quindi adesso ci troviamo questa roba qui e non sappiamo a che punto siamo ecco no bastato dare un ulteriore invio e vedete che siamo tornati nella situazione normale bene questo è g pascal bisognerebbe provare come funzionano gli sprite come funziona la musica però ve l'ho fatto vedere e se vi ho incuriosito potete andare voi a vedere tutto quanto quello che vi interessa c'è anche questo file che ho trovato andando a scaricare tutti questi programmi e questo è your own pascal adventure dice che sta usando il g pascal credo che appunto parla di crauter e woods che avevano creato l'adventure originale quindi queste avventure testuali di cui parliamo spesso sul nostro canale vedete che questo è un articolo ristampato con il permesso di your computer magazine addirittura dell'agosto 82 comunque qui hanno preso un programma in pascal si può usare go north cioè tutte le azioni dei vari delle varie avventure testuali e qui vi spiega come creare un'avventura testuale in pascal usando a quanto pare il g pascal ultima cosa che vediamo c'è anche questo kian pascal oltre a tutti gli altri che avete visto elencati allora per completezza andiamo a vedere anche questo terzo esempio che marco non aveva proposto ma anche qui abbiamo tutto il tutto il manuale per imparare questo è dell 85 c'è tutto il manuale per imparare il linguaggio pascal come funziona guardo un attimo per vedere e qui ci deve essere peak e poke che come nel basic versione 2 possiamo usare per per usare la grafica per usare gli sprite ecco quindi anche nell'oxford pascal probabilmente ci sarà qualcosa del genere perché altrimenti sarebbe troppo limitato per il per creare programmi per il c64 quindi sicuramente è un pascal standard ma con alcune estensioni pic e poke per poter gestire un po a basso livello sprite grafica e così via andiamolo a vedere questo kian pascal prendiamo questa versione qui aspettiamo che si carichi anche questo così abbiamo accontentato marco che diceva ma guardiamo anche un po di pascal sul commodore 64 beh qui non ho l'hardware cioè l'hardware ce l'ho ma è lì dietro e mi è più comodo fare i video ovviamente usando sfruttando l'emulatore è molto più spartano vedete non si è preoccupato di cambiare il colore di sfondo insomma è rimasto il colore standard poi ci dice per capirci qualcosa tra l'altro non ho trovato qui il manuale perciò è utilissimo scrivere r help no il manuale l'avevo trovato eh sì è quello che ho visto che abbiamo visto prima però l'help è utile avere i comandi senza dover per forza aprire il manuale e ci dice che possiamo fare la build compilare elencare la directory vediamo se funziona ci fa vedere poi boh vedo sprite vedo graph qualcosa c'è proviamo allora lui ci dice c'è anche pippo vedete una prova che ho fatto prima vi faccio vedere pippo perché è troppo divertente per editare e chiediamo un po' ecco l'editor è questo in pratica non c'è neanche bisogno di usare i numeri di linea come invece avevamo fatto nell'oxford pascal e c'è program pippo vedete begin write pippo end poi si può salvare quando si è finito si preme f1 quindi tutto molto comodo e poi si scrive r pippo che ovviamente avevamo già compilato altrimenti bisognava anche compilarlo e programma pippo non fa altro che scrivere pippo adesso mi accorgono l'avevo notato prima che ci sono dei programmi c'è questo sprite andiamo prima a vedere andiamo a vedere il programma prima che si chiama sprite quindi avrà a che fare spero con gli sprite e poi c'era anche ci sono i comandi per usare o comunque si può vedo qui che si può bisogna studiarseli un po' questi programmi per capire come usando il pascal riescono a fare queste cose comunque andiamo a vedere che cosa fa questo programma che credo abbia a che fare con gli sprite e con un po' di grafica sta facendo cose strane non capisco ma mi adeguo ha fatto cose non vedo gli sprite quindi boh provo a premere un po' di tasti quindi non sapremo se sta funzionando oppure no tra l'altro non riesco neanche più a uscire forse sta ancora elaborando sta aspettando qualcosa niente ripartiamo perché qui in effetti ci abbiamo provato ma non ha avuto l'effetto che volevamo ecco ricarichiamo proviamo a vedere un altro programma comunque ci sono dei programmi ad esempio anche qui e si possono provare andiamo a vedere cosa c'era c'era un'altra cosa che sembrava interessante vedo paint print new c'è graph proviamo graph speriamo che almeno questo sia comprensibile lo eseguo subito inutile andare a vedere il sorgente lo andate a vedere voi se volete ha pulito un po' tutto dovremmo essere in modalità alta risoluzione non so se sta lavorando sto premendo tasti a caso andiamo a vedere il sorgente però adesso non so più come uscirne e allora facciamo così così per curiosità vediamo se ci sono delle indicazioni e finiamo che ci dicono questo programma a cosa serviva ricarichiamo tutto e poi andiamo a editare il programma graph in modalità alta risoluzione mi è sembrato di capire che ci fosse andato perché c'erano tutti i vari quadratini colorati program graph poi ci sono questi type particolari vedo qui char mem che va a definire in pratica un array di 8000 caratteri e quindi gli 8000 caratteri ne deduco che hanno a che fare con la parte della bitmap in alta risoluzione che sono proprio 8000 byte un char non sarà altro che un byte poi c'è la screen mem qui questi sono 1000 byte anzi 1024 byte chissà perché li prende tutti 1024 e questi servono per colorare nella finestra in cui di solito si scrive come in questo caso si vanno a mettere dei caratteri che vanno a colorare la bitmap poi vedo blank questo non so cosa sia poi definisce alcune variabili poi c'è la funzione orf qui addirittura usano i record del Pascal per definire una struttura qui vari dammi oh qui cancella lo schermo e qui va bene qui porta l'alta risoluzione attiva l'alta risoluzione praticamente lo fa qui cancella qui cancella tutta la parte della memoria colore e pittura tutto di rosso a quanto pare perché vedo che ci mette il carattere 2 che serve proprio per colorare lo sfondo di rosso potrebbe essere poi legge delle cose fa un while e dovrebbe disegnare qualcosa e con questa istruzione qui questa funzione qui dovrebbe disegnare dei pixel la domanda è perché non si vede niente comunque ci riprovo abbiamo visto questi Pascal sul Commodore 64 c'era davvero di tutto a nostra disposizione io avevo usato un po' il basic un po' l'assembly di linguaggi tipo Pascal ci negli anni 80 non ne avevo mai usato neanche uno e quindi mi ero dedicato al basic o all'assembly quindi proprio ho l'alto livello lentissimo ho il basso livello proprio più veloce possibile ma anche più difficile da niente qua non si vede nulla quindi non so bisognerebbe leggere bene il programma come funziona apparentemente sembrava ci fosse tutto il codice per tracciare qualche pixel la prossima volta mi sono accorto adesso che c'era l'ho voluto provare ma quanto pare non abbiamo avuto fortuna almeno con questo Kian Pascal mentre in effetti funzionava bene il G Pascal bene spero che queste cose vi abbiano in qualche modo interessati e che Marco Bergomi sia contento e magari si mette a creare qualcosa io suggerirei visto che ha funzionato bene il G Pascal anche e soprattutto se si riuscissero a trovare questi programmi d'esempio che sarebbero utili per imparare a utilizzare le funzioni aggiuntive che sono addirittura 76 in più rispetto al Pascal standard quindi grazie per questi suggerimenti che mi date sempre per fare nuovi video e ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti